E niente, è tramontata subito l'idea di fare appunto quella serie Su Pio Mobile perché mi sono reso conto Ecco, che era troppo pesante, troppo pesante Poi ho rimesso a posto un po' diciamo il canale con la playlist Poi ho aggiornato la playlist di postpartita Ci sono tutti postpartita l'anno scorso degli europei E da quando ho iniziato anche quest'anno con lo Spezia Salernitana Ho fatto un po' di piazza pulita Playlist inconsistenti buttate via E niente, la prossima settimana ci sarà il punto Sulla serie A Dalla sesta alla dodicesima giornata Con Jacopo E nulla Ho fatto un post in community Andate a guardarlo perché è importante Ovviamente questo video uscirà la mattina E pomeriggio succederà quello che c'è scritto In community Quanta nostalgia di numeri grandi Non me li sono visti tutti Ho scrollato Certe views Sono da rifare 400 views a video Con i mille Con i mille E le quattrocento Però la maggior parte non supera neanche gli 80 views Quindi Abbiamo un po' il tallenante ragazzuoli Bisogna vederli tutti Dall'inizio alla fine E nulla Buona giornata a tutti Video breve Solo per dire questa cosa Appunto mi manca il passato Sì Per il Grazie.